Kakà è in una buona condizione fisica, si è allenato molto bene, con grande entusiasmo, diciamo l'entusiasmo del ragazzino e credo che sia anche un po' emozionato, come ha detto lui, per il debutto di domani. Quindi Kakà parte dal primo minuto? Ma credo di sì, ma a parte la disponibilità, la voglia di rimettersi in gioco, di dimostrare ancora che è ancora tanto da dare e da fare e soprattutto a livello professionale è un ragazzo eccezionale perché passa la maggior parte della giornata qui a Milanello a curarsi ed ad allenarsi e credo che sia un bel esempio per molti giocatori qui dentro lo spogliatoio e soprattutto per i giovani. Ha delle accelerazioni micidiali, è un giocatore che in campo ha un'intelligenza calcistica superiore alla media e quindi credo che sia stato un ottimo acquisto per il Milan. Davo a vedere, poi stasera o domani mattina deciderò, però stanno tutti bene, credo di avere un bel parco attaccanti anche se in questo momento Kakà lo considero più centrocampista e di questo sono contento, bisogna affrontare una stagione importante e bisogna cercare di essere al massimo in ogni partita che andremo a giocare e visto che da qui al 6 ottobre, che è l'ultima partita prima della sosta contro l'Iventus avremo partite importanti di campionato e di Champions, avere tutti gli attaccanti che stanno bene visto che i difensori ormai sono tutti fuori causa, direi che è una bella cosa.